Due animali al giorno vengono abbandonati tra Padova e provincia. Cani, gatti e addirittura intere cucciolate con la mamma sono state ritrovate sul ciglio di una strada. Nei laghi ora c'è anche chi getta le tartarughe acquistate nei negozi. Lo dichiarano le guardie della LAC, nucleo di Padova. L'abbandono degli animali in estate è ancora una triste realtà. Da qui nasce il progetto promosso molto intelligentemente dalla LAV. Questa è una vecchia amicizia e cioè quello di far adottare cani e gatti adulti da parte di anziani. Noi sappiamo che è un dato di fatto scientificamente provato che un animale aiuta l'anziano recandogli dei benefici. Abbandonare un animale ora è addirittura reato. Le stanzioni previste nell'articolo 727 del codice penale sono pesanti. Prevedono l'arresto fino ad un anno, una menta fino a 10.000 euro. Spesso però si abbandona anche per crisi. Una separazione, un trasferimento, un ricovero in casa di riposo. I sindacati dei pensionati CGL, Cisle e Will hanno già aderito e faranno da tramite per aiutare gli anziani che vorranno adottare un animale a portarlo a casa. A breve sentiremo i singoli canili, nel caso specifico per Padova il canile di Rubano, per sapere quante persone sono andate a prendere questi poveri animali che sono sicuramente accuditi nei canili ma hanno bisogno oltre che di essere accuditi anche di essere amati e non possono essere amati allo stesso modo che non attraverso un'adozione di una persona che dedica loro tutte le attenzioni che meritano.